carissimi pace e buona giornata a tutti quanti voi dio vi benedica oggi è 4 settembre vi invito a leggere insieme a me nel Vangelo di Giovanni al capitolo 16 i versi da 12 fino a 14 dove Gesù dice ho ancora molte cose da dirvi ma non sono per ora alla vostra portata quando però sarà venuto lui lo spirito della verità egli vi guiderà in tutta la verità perché non parlerà di suo ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire e mi egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà l'ora il signore per l'opera dello spirito santo un'opera che è fondamentale d'altronde la chiesa nasce dall'opera della croce Gesù è il suo capo ma Gesù ha dato anche lo spirito santo alla chiesa affinché compia al suo interno ciò che è indispensabile ai fini della santificazione e quest'opera continua ancora oggi nei cuori che accettano l'Evangelo come guida infallibile insostituibile del loro cammino di fede se permettiamo infatti allo spirito santo di guidarci egli ci condurrà lungo tutti i sentieri della verità perché lo spirito santo è definito anche lo spirito della verità tanti sono convinti di essere nella verità ma non fondono questa loro convinzione sull'elemento che può dare certezze cioè l'unzione che abbiamo ricevuto dal signore e che dimora in noi e questa unzione soprattutto luce interiore e possesso quindi della verità nella sua essenza più intima lo spirito di dio che mette questa luce prima nel cuore poi nella mente di chi lo accetta in modo incondizionato cioè senza porre dei filtri come abitualmente avviene a coloro che chiudono il cuore all'opera dello spirito santo gesù ha detto che ci sono cose che non sono alla nostra portata e che non comprenderemo in altro modo se non nel modo che dio ha scelto e quindi quest'unzione che anche potenza e anche capacità di mettere in pratica l'insegnamento di gesù e lo spirito santo quando agisce in noi ci afferra affinché possiamo compiere la volontà di dio con una prontezza che non può essere individuata semplicemente nella buona volontà del credente e molto di più è la determinazione che spinge a dire o meglio a far dire a pietro e giovanni giuricate voi se è lecito ubbidire a voi anziché a dio o che fece affermare all'apostolo paolo io sono pronto non solo ad essere legato ma anche a morire per il nome di gesù ed è sempre e comunque questo spirito che quando ci afferra ci fa aprire la bocca o ce la fa chiudere ci fa andare oppure ci fa rimanere fermi e quindi l'opera dello spirito ripeto è qualcosa di essenziale di fondamentale di indispensabile nella vita di ogni vero cristiano e vogliamo permettere che lo spirito di dio possa avere veramente il pieno controllo della nostra vita e vogliamo ricercare la guida e l'unzione dello spirito santo perché viviamo in un tempo dove tanti anche alcuni credenti si sentono autosufficienti e capaci di poter fare le cose basandosi unicamente sulle proprie capacità dio ci dia grazie di essere umili e di saper riconoscere la nostra insufficienza in modo da chiedere aiuto al signore che mediante l'unzione dello spirito e mediante la guida che lo spirito dà riguardo alla sua parola ci conduce lungo i sentieri della volontà del nostro caro padre celeste un'ultima considerazione lo spirito santo glorifica sempre gesù perché allo scopo proprio di dare pienezza all'opera compiuta da cristo sulla croce e noi non possiamo conoscere cristo gesù glorificato se non per mezzo dell'opera dello spirito santo perché è lui che lo glorificherà perché prenderà del suo e ce lo annunzierà e allora l'unzione dello spirito è necessario anche affinché veramente la persona di cristo possa essere ancora glorificati in ognuno di noi in mezzo alle comunità locali nel mondo dove ancora non viene conosciuto e questo ci rende ancora più chiaro quello che gesù disse ai suoi discepoli sempre nel capitolo 14 del vangelo di giovanni è utile che io me ne vada perché quando me ne sarà andato il padre mio manderà lo spirito santo ed ecco noi non solo vogliamo rallegrarci del fatto che lo spirito santo è dato ma vogliamo vivere questa pienezza come qualcosa di reale nella vita di ognuno di noi e se sei ripieno di spirito santo ripiena di spirito santo continua a vivere questa pienezza perché è la cosa più bella la cosa migliore indispensabile per vivere un cristianesimo vittorioso ma se questa unzione ancora non l'hai ricevuto magari nel tempo si è affievolita e diventato da un fiume o in piena un semplice rigagnolo vai ai piedi del signore comincia a chiedere questa nuova e fresconzione nella tua vita affinché la guida di dio possa essere reale in te e tu possa vivere una vita che sia approvata da parte del signore coraggio cari andiamo avanti lasciandoci guidare dallo spirito di dio dalla parola del signore e non lasciandoci scoraggiare dalle avversità della vita sapendo che in cristo noi siamo più che vincitori e ora la grazia la pace l'amore la presenza e la benedizione di dio ci accompagnano ancora oggi pace del signore a tutti quanti voi